Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video guida di Fortnite Qui è Darkone Nazionale che vi parla e in questo video vi ando a svelare come ottenere una mimetica totalmente gratis regalata dalla Epic Games Ma prima di passare al video vi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la camprellina su tutte le notifiche così non potete perdervi nessun video E soprattutto ragazzi coloro che si iscriveranno al canale e attiveranno la camprellina e lasceranno like a questo video Avranno la possibilità di vincere una skin gratis regalata da me ragazzi Tutto ciò che dovete fare sono questi tre semplici passaggi Iscrizione, attivare la camprellina e lasciare like a questo video Vi ricordo anche di condividere il video con tutti i vostri amici così fate vedere anche i vostri amici come si ottiene questa fantastica mimetica Andatemi a seguire su Instagram ytdark88 per restare sempre aggiornati sul mio canale E soprattutto supportatemi come creatore nei negozi oggetti TheDark2605 se volete giocare con me quando sto in live e quando non sto in live E soprattutto se volete partecipare ai miei contest Detto ciò passiamo al tutorial di come ottenere questa fantastica mimetica I passaggi da fare sono davvero semplicissimi e soprattutto li fate in meno di due minuti ragazzi Davvero di quanto è facile ci mettete pochissimo a farli Il primo passaggio è quello di andare sul sito delle Epic Games e fare l'accesso al vostro account Una volta fatto ciò il secondo passaggio è quello in cui dovete andare sulle schermate di scattacodici Che trovate in alto a destra o in alto a sinistra nel menu di Epic Games Una volta fatto ciò ragazzi una volta che siete sulle schermate di scattacodici Inserite il codice che vi mette all'interno dello schermo ragazzi come potete vedere il codice è questo di qua che vi sto mettendo all'interno dello schermo Una volta che inserite questo codice ragazzi premete su riscatta e dopo di che cliccate attiva Adesso avrete ottenuto la vostra mimetica gratis Tutto ciò che dovete fare è andare su Fortnite All'interno di Fortnite e fare l'accesso su Fortnite e avrete la vostra mimetica E niente ragazzi spero che questo video vi sia stato d'aiuto Se così fosse vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campbellina delle notifiche Così da non perdervi nessun video Vi raccomando condividete il video con tutti i nostri amici Seguitevi su Instagram ytdark88 e supportatemi come creatore thedark2705 Detto ciò ci si becca al prossimo video Bella ragazzi